Si frena sempre e solo a ruote di ripare L'anfiteatro naturale non poteva che essere il circuito di Vallelunga di Campagnano selettivo tecnico con curve di varia velocità e difficoltà ma non solo proprio qui Toyota ha dato appuntamento a giornalisti ed appassionati per il suo corso di guida in pista la sua accademia dove guidare bene in sicurezza e compassione significa laurearsi e lo fa con la sua creatura nata per la pista e per le curve, la GT86 Questo è GT86 Academy, non un semplice corso ma un modo di vivere l'auto una passione che si sprigiona fin dalla lezione teorica per arrivare poi all'apprendimento lì, proprio con il volante in mano, delle tecniche di base prima e del modo corretto per andare forte e in piena sicurezza Si, devo dire, è molto gradevole, bellissima, si, il tempo ci ha assistito la macchina è bella, è eccezionale, le persone pure sono molto bravi inserire bene la macchina il traverso e la sbandata controllata non sono più elementi di allerta ma momenti di controllo grazie anche agli esercizi di drifting In compagnia degli istruttori abbiamo anche la possibilità di effettuare dei giri di pista con traiettorie e punti di staccate di accelerazione spiegati e consigliati il tutto con le mani ben salde sul volante di una vettura che brama i cordoli come la GT86 un'auto i cui punti di forza sono il peso estremamente contenuto un motore boxer da 200 cavalli di 2 litri montato anteriormente e con trazione posteriore e un baricentro molto basso ed una distribuzione del peso ideale ogni dettaglio, ogni particolare è stato pensato per offrire il massimo della comunicatività e del divertimento lo stesso divertimento che hanno provato i nostri colleghi chiaramente è una macchina super sportiva ma con un prezzo accessibile fantastica, molto divertente, reazioni molto sincere veramente molto divertente da guidare la GT Academy è il miglior modo di riportare il pubblico degli appassionati al divertimento, alla passione, alla gioia di godere e quello che per noi è più importante dopo una giornata in GT Academy le persone scendono dalle nostre auto sorridendo e questo è la vostra giornata e questo è la vostra giornata e questo è la vostra giornata Grazie. Grazie. Grazie.